Ciao a tutti, allora io mi chiamo Angela, sono nuova su YouTube, ho aperto questo canale in occasione di un grande avvenimento che avrà il prossimo anno, ossia il mio matrimonio e ho pensato di creare questa sorta di diario virtuale che potrà aiutarmi ad avere nuove idee, nuovi suggerimenti magari da voi perché sono sicura che ci sarà all'ascolto qualche nuova sposina o qualche futura sposina come me quindi sarebbe bello potersi scambiare delle idee, parleremo di bellezza, di make up anche perché è assolutamente collegato al matrimonio, proveremo insieme qualcosa di altamente performante come make up ne proveremo tanti anche perché è difficile trovarne ed è giusto che il giorno del matrimonio sia tutto perfetto, di bomboniere, partecipazioni, anche perché noi siamo dell'idea che non serve cedere per quanto riguarda queste cose possiamo fare degli oggettini fai da te molto 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 carini, molto significativi senza dover spendere un sacco di soldi, ovviamente questa è la nostra idea ci confronteremo su questo, su tanto altro, location, su qualsiasi cosa, i fiori e niente, penso che sia un'idea carina, è più che altro un modo di confrontarsi con tantissime altre persone se avrete voglia iscrivetevi, ci terremo aggiornate, sceglieremo magari insieme delle argomentazioni e niente, vi mando un bacio e al prossimo video